Musica Neonato muore, dramma in ospedale, la tragedia al pronto soccorso di Giuliano, disperati genitori. Il piccolo era stato dimesso dal nosocomio di Pozzuoli. Da chiarire le cause del decesso, ha aperto l'inchiesta per verificare se ci sono state responsabilità dei medici. Muore tifoso, il calcio va avanti, non si ferma il campionato dopo una nuova tragedia che ha scosso il mondo del pallone. Un 35enne tifoso interista, travolto e ucciso da un van su cui c'erano i sostenitori del Napoli prima della partita. C'era stato un agguato dei tifosi nero-azzurri, l'ira di Salvini. Baronissi preso il presunto omicida, lo hanno ritrovato in montagna. Sarebbe stato lui a uccidere il meccanico Biagio Capacchione, 63enne, titolare di un'officina a Fisciano. Si indaga ora per capire cosa abbia scatenato la furia omicida. La regione fiducia sulla manovra. Il governatore De Luca ricorre alla fiducia dopo aver ottenuto il via libera in giunta regionale. Domani tocca al Consiglio. Il bilancio al vaio dell'Assise, a pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre. È polemica con l'opposizione. Isochimica, oltraggiato l'albero delle vittime. Rubata la lettera della vedova di un ex operaio della fabbrica dei veleni morto per l'amianto. Fatto vergognoso, denuncia Annalisa Massidda, che stamane ha collocato sull'albero di Piazza del Popolo una nuova missiva che racconta il dramma dei lavoratori. Presepe vivente nel borgo di San Pio. Torna la rappresentazione della natività nel paese di Pietrelcina ed è subito boom di turisti e pellegrini provenienti da ogni parte della campagna. Messaggio di pace dal cardinale Comastri. Buonasera dal TG 696, l'avete sentito dai titoli. In apertura c'è la cronaca, neonato, muore, dramma in ospedale, la tragedia al pronto soccorso dell'ospedale di Giuliano. Disperati genitori, il piccolo, era stato dimesso dal nosocomio di Pozzuoli da chiarire le cause del decesso. È stata aperta un'inchiesta. Vediamo. Si indaga sulla morte del piccolo Enzo di appena 40 giorni di vita e il neonato è morto all'ospedale San Giuliano di Giuliano. Ma il suo calvario è cominciato prima. Martedì mattina il piccolo si era sentito male. I genitori si sono recati prima in una farmacia a Qualiano dove abitano per chiedere aiuto. Ma poi le condizioni del neonato si sono fatte immediatamente più seri e si è reso quindi necessario il ricovero all'ospedale. Già il giorno prima comunque Vincenzo aveva dato alcuni segni di sofferenza ma l'ospedale di Pozzuoli era stato dimesso. Dalla farmacia qualianese la folle corse in ospedale scortati da una gazzella dei carabinieri a sirene spiegate ha percorso le strade affollate della cittadina ma nonostante l'intervento tempestivo dei medici del pronto soccorso per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Giunto al nosocomio di Giuliano già in condizioni critiche era cianotico e respirava male. Gli infermieri lo hanno portato dagli specialisti di turno e per mezz'ora i genitori sono rimasti col fiato sospeso. Poi la triste notizia del decesso, morto perché il suo cuore ha subito dei danni irreparabili. I carabinieri che erano rimasti al pronto soccorso nella speranza che il neonato si riprendesse hanno avvisato la procura del Tribunale di Napoli Nord. I giudici vogliono vederci chiaro su questa morte improvvisa e in attesa e hanno disposto il sequestro della Salma in attesa dell'esame autoptico. Sono state sequestrate anche le due cartelle cliniche degli ospedali ed è stata aperta un'inchiesta. Tutto fa pensare che il piccolo sia morto in seguito a una bronchite ma questa è solo un'ipotesi che dovrà essere confermata dall'esame autoptico. Ed ora agli scontri prima di Inter-Napoli costati la vita a un tifoso nerazzurro. Il ministro Salvini annuncia che convocherà tifosi e società perché è assurdo morire per una partita di calcio. Intanto è arrestato un terzo ultra dell'Inter. Il presidente Figgici fa sapere che ci saranno norme più facili per interrompere le partite in caso di violenza. Non si può morire per una partita di calcio. A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili delle tifoserie e le società di serie A e B affinché gli stadi ed intorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza. Sono le prime parole del ministro dell'interno Matteo Salvini a proposito degli incidenti scoppiati in occasione del pre-partita di Inter-Napoli e costati la vita a un ultraneo azzurro. Vedremo di fare quello che non sono riusciti a fare altri, ha aggiunto il vicepremier. Intanto è stato rintracciato e arrestato anche il terzo ultra dell'Inter accusato di aver partecipato agli scontri in Vianovara. Anche per lui, come per i due arrestati in precedenza, l'accusa è di rissa gravata e lesioni. Erano oltre 100 gli ultrasinteristi ma tra loro vi erano anche supporter del Varese e del Nizza. E sui burazzisti nei confronti di Coulibaly il procuratore della Figgici ha esternato la propria posizione. Per me la gara andava sospesa. Infatti gli uomini della procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop. La decisione tuttavia non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Mentre Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha annunciato la proposta di norme che rendano più facile lo stop alle partite in caso di cori razzisti. Il numero uno della Figgici ha anche fatto sapere che sabato si giocherà regolarmente. Il campionato non si ferma. Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte. Abbiamo deciso di andare avanti. E intanto già in passa l'hashtag SiamoTuttiCulibali. Il noto pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo oggi ha servito pizza nei suoi locali con il volto dipinto di nero. Mentre il titolare del bar Gambrinus ha fatto sapere che il suo personale ha preparato centinaia di caffè contro il razzismo. E' stato trovato e condotto in caserma il presunto assassino di Biagio Capacchione, il titolare di un'officina e concessionaria d'auto di Baronissi, freddato stamattina a fucilate. Si nascondeva in un casolare di montagna in una zona periferica della cittadina della valle dell'Irno. Vediamo il servizio. Lo hanno trovato in stato confusionale in un casolare alla frazione Caprecano dove si era nascosto probabilmente subito dopo aver ucciso l'ex socio a colpi di fucile. I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'assassinio di Biagio Capacchione, l'imprenditore di 63 anni morto in ospedale per le ferite d'arma da fuoco esplose al colmine di un litigio. L'uomo è stato scovato nel primo pomeriggio dopo ore di frenetiche ricerche che avevano visti impegnati i reparti forestali, cinofili del nucleo investigativo e della compagnia di mercato San Severino. Dissapori legati con ogni probabilità a motivi lavorativi anche se le indagini coordinate dal sostituto procuratore Angelo Rubano del Tribunale di Nocere Inferiore non tralasciano alcun particolare. Capacchione è stato colpito poco prima delle otto tra via Trinità e via Berlinguer tra la casa della madre e quella di famiglia. Prima di morire avrebbe detto alla moglie il nome dell'assassino, un particolare che ha consentito da subito agli investigatori di indirizzare le ricerche. Sconvolto il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che si è fatto portavoce del dolore della comunità della Valle dell'Irno. Persone laboriose, persone, famiglie per bene, una cosa incredibile, una cosa cui non vogliamo credere. Siamo sconvolti veramente. 27 e 28 il Comune chiederà ai concittadini che hanno questo momento di sofferenza, di incredulità, di dolore, di stringersi intorno alla famiglia, una comunità coesa che sente tutto il dolore in questo momento. Il governatore De Luca pone la fiducia sulla manovra via libera in giunta, ma domani tocca al Consiglio il bilancio al vaglio dell'assise a pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre. L'Aggiunta regionale della Campania ha dato la fiducia sul collegato alla legge di stabilità regionale 2019. Succede a pochi giorni dalla scadenza del 31 dicembre, lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, intervenendo in Consiglio regionale all'inizio della seduta. All'ordine del giorno i disegni di legge per la formazione del bilancio, uno strumento indispensabile per la legge di stabilità regionale del nuovo anno, ma anche il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021. Secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio, guidato dalla consigliera Rosetta D'Amelio, con la fiducia la seduta è stata aggiornata esattamente di 24 ore. È una manovra che naturalmente ripropone alcuni elementi importanti già previsti nei precedenti bilanci, quello dei trasporti gratis per i ragazzi universitari, è una manovra che interverrà molto sul sociale, perché è un'esigenza forte della nostra regione. Tutti i dati, compresi gli ultimi dati Svimex, ci dicono che siamo una regione in cui ancora persiste una ponte di povertà notevole. È una manovra che investe su industria 4.0, perché io credo che l'altro punto che dobbiamo sviluppare è proprio quello di una industrializzazione di qualità. E nella manovra di governo spuntano i fondi per le buche di Roma. protesta l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, che dice che non possiamo tollerare questa discriminazione da Prima Repubblica. 75 milioni per le buche stradali a Roma. Questa la cifra è venuta fuori dal maxi emendamento alla manovra finanziaria del governo Conte a trazione giallo-verde. Per la città, amministrata dalla sindaca 5 Stelle Virginia Raggi, in tutto sono previsti 145 milioni in tre anni per il potenziamento delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il rifacimento del manto stradale, con l'intervento dell'esercito in casi emergenziali. Indignata la reazione del Comune di Napoli, l'assessore al bilancio Enrico Panini chiede che gli stessi soldi siano destinati anche a Napoli. Scoprire che le buche non sono tutte uguali e che si può usare l'esercito per tapparle ci precipita negli anni più bui della Prima Repubblica, ha detto l'assessore. Per il Comune di Roma un vero e proprio regalo, ma il segretario D'Emma è pronto a farsi sentire. Per le buche di Napoli e degli altri comuni rivendichiamo analoga attenzione. Sia chiaro, non sopporteremo in silenzio questa ulteriore discriminazione. Già qualche giorno fa il sindaco De Magistris aveva rilasciato un giudizio impietoso sulla manovra che discrimina ancora una volta pesantemente il Sud. Nel frattempo a Palazzo San Giacomo è stato approvato il consolidato 2017 che raccoglie i bilanci delle partecipate del Comune di Napoli e i debiti fuori bilancio. Domani un'importante discussione, chiudiamo il 2018 in questo modo ma contemporaneamente stiamo già preparando il bilancio preventivo per il 2019 che verrà approvato con la fine del mese di febbraio perché siamo in una situazione nella quale, feste o non feste, non bisogna fermarsi un attimo. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris ha approvato oggi con due apposite deliberazioni il piano industriale 2019-2021 e la ricapitalizzazione della compagnia trasporti pubblici CTP l'azienda di trasporto pubblico interamente di proprietà dell'ente di piazza Matteotti per 12 milioni e 561 mila euro la ricapitalizzazione è stata disposta al fine di ripianare la perdita maturata al 30 settembre di quest'anno e di ricostituire il capitale sociale lo stanziamento era stato previsto dal Consiglio metropolitano in sede di approvazione del bilancio 2018 per un ammontare di 8 milioni e 300 mila euro cui la stessa Assemblea di Santa Maria Lanova aveva aggiunto con una deliberazione approvata a fine novembre ulteriori 4 milioni a causa del perdurare dello stato di crisi aziendale per l'esercizio finanziario in corso Ora parliamo di isochimica oltraggiato l'albero dedicato alle vittime è stata rubata la lettera della vedova di un ex operaio della fabbrica dei veleni morto per l'amianto fatto vergognoso denuncia lei che questa mattina ha collocato sull'albero di piazza del popolo una nuova missiva che racconta il dramma dei lavoratori vediamo Stamattina la teca posizionata al fianco dell'albero di Natale dedicato al dramma isochimica era vuota rubata la lettera che aveva scritto Annalisa Massidda vedova dell'operaio Alessandro Manganiello morto di amianto oltraggiata la memoria delle 26 vittime della fabbrica dei veleni e la sete di giustizia dei colleghi che stanno portando avanti la battaglia giudiziaria ma Annalisa non si è persa d'animo e ha riposizionato quella lettera al suo posto nonostante l'amarezza sia ancora tantissima ci si è trovato malissimo perché è un gesto ignobile veramente non si può voglio pensare che sia stata la stupidata di qualche ragazzino perché se è stata una cosa ammirata veramente c'è gente senza un'anima senza niente senza valori questa lettera riporta praticamente quello che stanno passando cioè rigogliosi gli arbusti io ho usato questa foto perché è bello l'albero però riporta anche il colore del sangue lo stesso che loro hanno buttato per far come ho detto prima viaggiare in sicurezza tutte quante quelle persone che prendevano i treni il paesaggio è triste e la tristezza è la stessa cosa di Avellino perché c'è un'indifferenza totale per questa cosa qui la giustizia che chiediamo per darla a chi non c'è più e per darla anche a chi sta combattendo diciamo tra virgolette anche con la morte perché la malattia che hanno li porterà anche a loro alla morte la voce di questi che non ci sono più siamo noi migliaia di persone questa sera a Pietrelcina hanno assistito al taglio del nastro dello storico presepe vivente tra i vicoli dove è nato proprio Sampio presenti il cardinale Comastri e il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao dopo un anno di stop a Pietrelcina a terra natale di Sampio torna il presepe vivente nato nel lontano 1987 anno del centenario della nascita di Sampio migliaia le persone che hanno partecipato al taglio del nastro preceduto dalla messa celebrata dal cardinale Angelo Comastri arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Maticano la Pietrelcina è un luogo dove Padre Pio ha sperimentato che il cielo sia aperto e ha sorriso a lui e gli ha lasciato i segni della passione della carne e Padre Pio è diventato con la sua vita un messaggio una freccia che indica la direzione del cielo sia questo un momento di pace e di fraternità è invece il messaggio lanciato dal sindaco di Pietrelcina quest'anno è dedicato alla solidarietà e alla legalità di un anno soprattutto migliore che non parli dicevo poc'anzi di missili ma parli di missili d'amore e di concordia e di pace presente anche il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao che ha rimarcato come il cambiamento deve essere l'obiettivo di tutti consentire che tutti abbiano il sostegno economico che consenta loro di vivere questa nostra esistenza allo stesso momento che tutti osservino le regole e soprattutto rispettino la dignità di ciascuno così come vuole la nostra Costituzione nell'affermazione dei diritti di tutti Un marocchino di 37 anni si è suicidato il giorno di Natale a Salerno a spingere l'uomo alla disperazione la notizia del suo imminente rimpatrio Don Marco Russo direttore della Caritas salernitana ha rivolto a lui una preghiera da Dio vediamo il servizio a Zizzalini 37 anni marocchino si è tolto la vita a Salerno nel giorno di Natale probabilmente per paura di essere rimpatriato era ospite presso la Domus Misericordia di Brignano casa di accoglienza alternativa al carcere per detenuti distinti si per buona condotta al suo arrivo in città aveva rubato un portafogli poi recuperato a Capaccio furto che gli era costato due anni di carcere grazie alla sua buona condotta però era stato accolto nella Domus ideata da Don Mario Petrone lì aveva anche seguito un laboratorio di ceramica tra dieci giorni sarebbe uscito poi la notizia del suo rimpatrio preso dalla disperazione si è impiccato nei pressi del sagrato della chiesa di San Teostacchio Martire lo hanno ritrovato il giorno dopo il direttore della Caritas Don Marco Russo in una lettera indirizzata idealmente a lui si interroga su queste motivazioni umanità non accolta un'umanità dolente oggi ha lasciato il suo sangue su questa nostra terra un'umanità che mi interroga e vorrei interrogasse tutti dice Don Marco una umanità che cercava pienezza che incontrando la sofferenza estrema ha rinunciato a lottare a vivere ciao uomo che hai lasciato il tuo corpo qui tra noi possa la tua anima volare libera conclude Don Marco doppia rapina nel Sannio nella sera di Santo Stefano nel mirino dei banditi un centro scommesse e una donna mentre rientrava a casa vediamo momenti di paura nella serata di ieri nel Sannio per due rapine messe a segno in pochi minuti a San Leucio del Sannio e lungo la statale Appia nel territorio di Cepaluni nel primo episodio del mirino di due malviventi armati di pistole con il volto coperto da passamontagne è finito un centro scommesse online era all'incirca l'ora di chiusura quando nel locale hanno fatto irruzione i due rapinatori che hanno raggiunto il bancone ed hanno minacciato un addetto dal quale si sono fatti consegnare 500 euro subito dopo sono scappate a piedi ma non è escluso che ad attenderle ci fosse una terza persona alla guida di un'auto con la quale si sono poi allontanati sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno ascoltato il malcapitato ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo pochi minuti più tardi lungo il tratto di Statale Appia che da Benevento conduce a Montesarchio nel territorio di Cepaluni sempre due banditi hanno raggiunto a piedi una donna che camminava in compagnia del marito e le hanno scippato una catenina d'oro oltre a farsi consegnare la borsa con dentro soldi e documenti nulla ha potuto fare il marito della malcapitata comprensibilmente spaventato anche in questo caso indagini affittate ai carabinieri si cerca ora di capire se si tratta degli stessi balurdi che poco prima avevano messo a segno la rapina nel centro scommesse come sempre in questi casi attenzione rivolta anche ad eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza non si placa la protesta dei forestali in valle Ufita operai senza stipendio intenzionati a trascorrere il capodanno davanti la sede di Ariano appello ai sindaci del territorio non chiamateci solo per pulire le fogne o per i voti sono intenzionati a trascorrere il capodanno con le loro famiglie in segno di protesta sotto la sede della comunità montana di Ariano in Erpino se non verranno riconosciuti i loro diritti prosegue la settina degli operai forestali in valle Ufita ci chiamano ci ordinano di tutto a lavorare nei cantieri nei comuni quando si tratta di pagare proprio niente è zero tutti gli anni è sempre la solita storia non si risolve niente anche se la regione manda i fondi comunque sia sempre la solita cosa i sindaci che sono del territorio ci devono aiutare non ci devono abbandonare non devono venire solo quando si vota non è solo il presidente eppure la giunta che si doveva dimettere hanno detto che se non arrivavano i soldi si dimettevano sono arrivati 2 milioni e 3 qui purtroppo a tutto si pensa perché agli operai è una situazione insostenibile che si protrae da tempo anziché amministrare nell'interesse degli operai che comunque lavorano e fanno il loro dovere si pensa a tutt'altro il presidente dell'ente ufitano Carmine Famiglietti chiarisce così la vicenda io credo che noi non abbiamo nessuna responsabilità in proposito circa i ritardi dei finanziamenti dalla regione mi hanno assicurato che presto arriveranno tra oggi e domani saranno deliberati altri 20 milioni di euro saranno ripartiti altri 20 milioni di euro che saranno che arriveranno penso agli inizi di gennaio e mi auguro basta passerelle elettorali ai lavoratori in difficoltà servono risposte e impegni precisi nel Salernitano è polemica politica dopo la visita del vice premier Di Maio allo stabilimento di Battipaglia l'esponente 5 stelle finisce nel mirino di Cascello di Forza Italia vediamo il servizio la passerella natalizia del ministro Di Maio alla treofan di Battipaglia è un tragico e drammatico film già visto da altre parti in campagna di chi illude tanti operai in difficoltà e poi non fa nulla il ministro si preoccupi di portare a termine bene la trattativa con l'azienda speriamo almeno che l'abbia avviato questo negoziato così il deputato di Forza Italia Gigi Cascello all'indomani della visita del vice premier presso lo stabilimento della Piana del Sele che rischia di non riaprire più la nuova proprietà degli indiani di Gindal ha disertato le convocazioni al Mise e il timore delle maestranze e che si ponga a fine alla produzione di un'azienda per attaccare il vice premier il quale ricorda Cascello ammette candidamente che non riesce neanche a fare una telefonata né a convocare i vertici aziendali la motivazione andrebbe ricercata in un ministro senza cultura di governo che non riesce mai a concludere nessuna trattativa per salvare le aziende in difficoltà il già chiuso del deputato salernitano che cita il caso della Doria di Acerra ce n'è abbastanza per aggiungere che la visita di Di Maio ai lavoratori in presidio a Battipaglia non può rassicurare preso com'era da selfie e dirette Facebook per Cascello se il vice premier avesse davvero a cuore il destino delle famiglie del mezzogiorno non avrebbe tagliato gli sgravi fiscali per le imprese che assumono a tempo indeterminato al sud come Caritas siamo sempre al fianco dei poveri ma le istituzioni facciano di più in occasione del Natale il direttore della Caritas di Avellino Carlo Mele chiede uno sforzo maggiore per contrastare la povertà 150 pasti serviti a Natale alla mensa dei poveri un'iniziativa che la Caritas di Avellino replicherà a capodanno all'epifania Carlo Mele in occasione delle festività natalizie torna a lanciare l'allarme povertà nel capoluogo irpino facciamo tutto il possibile ma serve una collaborazione più incisiva da parte delle istituzioni non può essere solo un impegno ecclesiale oltretutto se c'è un bisogno questo bisogno va risolto noi fronteggiamo la prima emergenza ma ci sono famiglie sfrattate ci sono famiglie da noi che sono da due anni in attesa di una risposta noi non abbiamo case credo che siano arrivati a 150 pasti perché poi tra quelli che dormivano quelli invitati i poveri che vengono e le famiglie insomma la stessa cosa ripeto sarà replicata a Capodanno e all'Epifania il 6 gennaio ricorrerà il secondo anniversario della morte di Angelo Lanzaro il clochard ucciso dal freddo in un box del mercatone non facciamoci più trovare impreparati tuona mele bisogna recarsi da queste persone che sono per strada quindi abbiamo stiamo pensando a un camper che giri la sera ci è stato già chiesto da un paio di associazioni che vogliono collaborare cercheremo di far arrivare a questi nostri fratelli anche questa quest'ulteriore possibilità il freddo è alle porte ormai è freddo e non può ripetersi un altro caso Angelo bisogna fare una mappatura dalle persone senza dimora ogni comune è tenuto a segnalare quindi a prendere in carico chi sta per strada ed è tutto con il nostro TG grazie di averci seguito la linea VAL TG Sport grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.